Buongiorno, siamo di Spario TV, la nostra prima TV fondata da ragazzi disabili, intellettuali e sensoriali. Buongiorno, la ringraziamo per averci dato questa opportunità di poterla intervistare. Per me è un piacere questa intervista. Da quanto tempo è Presidente dell'ente Cassa di Risparmio di Firenze? Presidente solo direi da un anno, però all'interno dell'ente ci sono vissuto dal momento della sua creazione, prima come direttore, poi come consigliere, poi come vicepresidente, ora come presidente. Qual è il vostro compito istituzionale? Il compito istituzionale è previsto dal nostro statuto, gli scopi sono scopi di utilità sociale e quindi nell'ambito di questi scopi la nostra attività consiste nell'operare per la promozione e la valorizzazione dell'arte, della cultura, della ricerca scientifica e poi a questo si abbina anche una tradizionale attività nel campo più generico della fitantropia che ci porta a dare attenzione e assistenza per la tutela delle categorie più deboli nella società e che quindi hanno bisogno di essere supportati. Con questo non ci sostituiamo allo Stato ma svolgiamo un'attività, diciamo, sussidiaria parallela a quella dello Stato. Quanto tempo passa dalla ideazione alla realizzazione di un progetto? Beh, questo dipende dai vari tipi di progetto perché se si tratta di un intervento per una manifestazione evidentemente la manifestazione verrà fatta nel momento in cui è stata programmata, se invece si tratta di un progetto che comporta tutto un iter di istruttoria, di preparazione e di cose del genere diciamo, quindi si può andare da pochi giorni a un anno circa. Qual è il progetto più bello finanziato dall'ente Cassa di Risparmio di Firenze? Questa è una domanda difficile per dare una risposta. Seguirò un criterio personale. Un criterio personale è che in genere la mia simpatia va a tutti quei progetti che sono rivolti alla valorizzazione e alla tutela del mondo giovanile. I giovani sono i grandi di domani e quindi meritano tutta la nostra attenzione. Fra questi progetti, e qui l'ente ne ha tanti perché rivolte ai giovani, alla scuola, abbiamo 100 itinerari più uno, abbiamo il nostro portale, ma quello che forse mi vede un pochino più coinvolto fin dall'inizio è il Firenze Festival. Questo Firenze Festival è una manifestazione che l'ente oramai fa da parecchi anni che coinvolge i ragazzi delle scuole di tutta la regione affidandogli come tema quello della riscoperta delle tradizioni, delle loro identità locali. Quindi è nato più che altro per assicurare ai giovani una coscienza in campo ambientale, quindi ecologica, quindi di tutela dell'ambiente. Ricordo negli anni passati ci fu il fenomeno della mucillagine che sembrava compromettere l'habitat dei nostri mari che ci circondano e quindi da lì poi scattò questa volontà di sensibilizzare i giovani sulla necessità di una tutela anche ambientale e in particolare del mare, perché il mare è bello a vedersi, poi però se uno va a vedere cosa c'è sotto scopri che ci sono tante brutte cose che sarebbe meglio che non evitare. Quindi questo Firenze Festival che è andato via via crescendo negli anni e che coinvolge tutti gli anni un migliaio di ragazzi delle scuole che producono loro autonomamente, così come state in fondo facendo anche voi, con dei soggetti, con delle regie, dei filmati che poi vengono, partecipano a questo concorso che si svolge tutti gli anni e che vengono naturalmente, i più belli vengono premiati. Ecco, questa attività ha ricevuto anche dei riconoscimenti dall'UNESCO e dall'Agenzia dell'ONU per la tutela del lavoro minorile e quindi a questa sono particolarmente affezionato. In che anno è stata fondata la Cassa di Risparmio di Firenze? Dunque la Cassa di Risparmio di Firenze è ormai vecchia, è stata fondata nel 1829 e quindi sono passati alcuni anni. Più di 100 anni? Sì, però si è sempre rinnovata nel tempo e direi che è tutto da vispa e vegeta. Il Frente è stato fondato, se non vado errato, nel 1992, quindi ora siamo al suo 18esimo anno di vita. Nel 2012 avrà 20 anni. Io purtroppo ci sono dentro fin dal 1992, quindi tutti questi anni li ho visti tutti passare e trascorrere. Cosa ne pensa dell'uso del web? Questa è una domanda che sinceramente mi prende in contropiede, perché oramai la mia età mi fa appartenere ad una categoria di persone che, almeno giudico col mio metro, non ha molte affinità col web e col computer per quanto mi riguarda anche con i telefonini. Io invece più che fare delle telefonate non mi riesco, al più riesco a seguire la segreteria, a tirar fuori i numeri della segreteria telefonica. Quindi la mia opinione del web, al di là delle mie incapacità, è un'opinione positiva e che indubbiamente è un mezzo di comunicazione molto importante. Oggi tutto segue delle regole che spingono l'uomo a essere sempre più rapido, sempre più presente, risposte più immediate, quindi comunicazione nella conoscenza delle cose, comunicazione delle notizie, eccetera, quindi indubbiamente il web è una grande conquista. Quali sono i suoi hobby, i suoi interessi o tra lavoro? Forse sarebbe più giusto dire quali sono stati i miei hobby, i miei interessi. A me è piaciuto molto fare degli sport, sciare, anche lavori manuali. Quando ero più giovane piaceva lavorare in giardino, mi piaceva anche... Avevo la passione per il mare, per le barche, mi sono allestito da me tre piccole imbarcazioni. Mi occupavano durante l'inverno, era un hobby per passare il tempo. Ora, un po' perché non ho più tempo, un po' perché, diciamolo pure, non ho neppure l'attitudine fisica per fare queste cose. Il mio hobby consiste nel seguire la musica, spettacoli musicali e fare viaggi quando mi è possibile. La ringraziamo per averci dato questa opportunità di intervistarla. Se ha del tempo, lei può venire al nostro ristorante Ragazzi di Sipario. Ci sono già stato e quindi ci tornerò molto volentieri. Io ti ringrazio per questa opportunità che mi hai dato di parlare del lente, ma con l'occasione vorrei anche spendere una parola per Sipario perché siete un'associazione così in gamba, così efficiente, che merita l'apprezzamento da parte di tutta la società. Oggi la società fortunatamente sta riscoprendo anche quei valori della comunitas. E quindi se si trovano le persone che sanno toccare i tasti giusti, si vede che le risposte possono non mancare. Arrivederci. Ciao. Grazie. 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 Grazie.